Dopo oltre sei anni di lavori torna finalmente a disposizione della città di Ruvo di Puglia Palazzo Caputi, edificio risalente al XVI secolo destinato a diventare la casa comunale della cultura. Ristrutturato grazie a fondi regionali e fondi comunali, Palazzo Caputi diventerà un centro polivalente pensato per ospitare attività culturali e ricreative, con un ampio salone per mostre e installazioni e una sala eventi da oltre 100 posti. L'intero primo piano ospiterà poi il nuovo museo del libro, in cui troveranno sistemazione definitiva, tra l'altro, circa 400 volumi del 1500 e oltre 5.000 libri antichi, datati tra il 1500 e il 1800, provenienti da fondi conventuali e altri fondi pubblici e privati. Nel museo non mancherà uno spazio dedicato al libro digitale. Noi come amministrazione avevamo le idee chiare e abbiamo con forza voluto raggiungere questo traguardo. Questo edificio diventerà casa della cultura, casa della cultura dove potremo incontrarci, organizzare convegni, organizzare mostre e metterlo a disposizione della comunità intera. Ma quello che a noi interessa è che, contrariamente a tutte le amministrazioni, secondo le quali la cultura è la cenerentola di tutte le attività dell'amministrazione, noi invece stiamo puntando e stiamo rivalutando la cultura, portando a ruvo la cultura come volano di sviluppo e di crescita della nostra comunità. Palazzo Caputi è un palazzo signorile realizzato nel 1592 da Domenico Caputi, poi ampliato da Francesco Caputi nel 1798. Diviso su tre piani per complessivi più di 1.000 m2, con stanze dalle volte affrescate in vari stili, l'immobile è entrato a far parte del patrimonio comunale nel 1991.